Ciao a tutti! Oggi prepareremo i bomboloni di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, acqua, lievito di birra fresco, olio, sale, zucchero e per farcire prosciutto, scamorza o salumi vari. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimbi per due minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 00, la farina di tipo manitoba, il sale e l'olio. Ed azionare il bimbi in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Spolverizzare la superficie con della farina. e stendere con il mattarello formando un rettangolo dello spessore di 5 mm. Con l'aiuto di un coppa vasta del diametro di 8 cm, ritagliare dei dischi e posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Farcire con prosciutto e formaggio. e chiudere con l'altro disco, sigillando bene i bordi. Friggere in abbondante olio caldo fino a doratura. Bomboloni di pizza. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!